Dubilate, facciulli! Vediamo un simbolo, un senso letterale. Allora, una corella con la lettera S. Elementare. Vediamo un simbolo, un senso letterale. Una strella con un sostantino. È una bella lettera la lettera S. Le faccio vedere io. Io cerco un simbolo che mi fa Una storia inventar! Tutta per voi. La lettera S deve cercar Per inventar Deve pensar Mi basta una storia Una piccola storia La lettera S è solo una lettera Se mi concentro si riuscirà Non ce la fa Non le verrà La mia cultura mi servirà Credo di no Non basterà Mi serve una storia Una piccola storia Se c'è fantasia Basta solo una lettera La lettera S è solo una lettera Si è una cosa Questa è la sua Questa è la sua La lettera S corrett Grazie a tutti. Grazie a tutti.